ciao 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 a tutti ciao a tutti da svideo allora oggi è il compleanno di M&M M&M chiamatelo come volete comunque laserdash proviamo a provare boh provo a fare questo laserdash qua boh vediamo un po come questo allora 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 ragazzi 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 io cerco di fare una partita decente ovviamente cerco di ci si prova ci si provano di fare una partita decente comunque tanti auguri a M&M tanti auguri a M&M tanti auguri a M&M tanti ma addirittura mamma mia mi è andata bene è qua ok fatemi passare fatemi passare qualificato qualificato ok 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 allora facciamo questo laserdash dedicato dedicato a M&M M&M tanti auguri tanti auguri tanti auguri a te buon compleanno buon compleanno tanti auguri a te auguri 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 auguroni buon compleanno buon compleanno buon compleanno a te a chi a M&M 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 chiamatelo come volete c'è c'è due M M e M poi dopo di preciso lo saprà lui come si legge meglio però mi ha ricordato guarda ricordati che domenica coppia gli anni e quindi insomma e allora sono qua per dedicarti sto videozzo che spero ti diverta oh 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 riesco a passare voilà voilà qualificato ancora mamma mia ma sono una bestia sono una bestia sono una bestia sono una bestia sono troppo forte sono troppo forte sono pro sono pro sono pro sono pro ma che ma di solito parti sempre ma che pro sei ma perché una volta c'hai fortuna beh insomma dai allora raghi dai cosa cosa vuoi dire su cosa vuoi dire su però la sto giocando bene dai insomma poi dopo si vedrà si vedrà almeno dai le prime due sono andate bene poi dopo vabbè adesso ho paura adesso qua è qua che si vede qua qua c'è il rischio c'è il rischio 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 eh c'è molto molto rischio qua eh allora facciamo un bel saltino qua da che noi tanto siamo come dei supereroi supereroi dai 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 oh 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 moia 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 nooo e niente e niente e niente va beh niente sono morto comunque spero ti abbia fatto piacere questo video che ti ha dedicato purtroppo beh non ce l'ho fatta non ce l'ho fatta e sapevo che non ce la facevi e vabbè dai 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 vabbè l'importante abbiamo dedicato questo bel videozzo mm ancora tantissimi tantissimi auguroni 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 auguri 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 auguri